Dopo gli attentati del Bataclan, come Consiglio regionale e come Comune di Venezia, si è pensato di trovare delle date e dei momenti per fare una riflessione su quello che sta accadendo nel mondo, sulle violenze, sull'integralismo, sulle idee fondamentaliste che minano la nostra civiltà. Quindi oggi fare un ragionamento a cent'anni dalla fine della guerra mondiale e per quello che sta avvenendo, anche per come era impostato il mondo in quel tempo e a quel momento, è sicuramente un momento utilizzato bene per riflettere sul nostro futuro. E anche un ragionamento su quello che è successo in Kurdistan, in Siria, negli ultimi giorni, con la definitiva caduta del califato e con la forza del popolo kurdo che è riuscito a liberare un territorio che rischiava di entrare in una orbita fondamentalista, forse è proprio il caso di ragionare, capire, guardare avanti, riflettendo su chi vuole cambiare i nostri stili di vita, su chi con la violenza vuole cambiare il nostro modo di vivere. Noi vogliamo, con questo convegno che il Consiglio regionale ha voluto promuovere, anche in ricordo di Valeria Solesin, dei fatti del Bataclan del 2015, ricordando poi anche Antonio Megalizzi, altra vittima, rilanciare il ruolo di Venezia e del Mediterraneo in questo ponte ideale, ma anche concreto, tra le realtà dell'Oriente e dell'Occidente. Venezia ha sempre avuto storicamente questa funzione di incrocio di civiltà, di culture, di commerci internazionali e vorremmo che da qui, da Venezia, fosse rilanciato questo messaggio alle realtà europee, da una parte, con le responsabilità che ne discendono e poi anche alle realtà dell'Oriente e del Medio Oriente. Il modo concreto per realizzare questa integrazione ci viene offerto innanzitutto dalla lotta comune al terrorismo, all'eversione, alla forza, purtroppo, e della violenza che il terrorismo sta portando avanti. Poi ancora c'è un'integrazione culturale che deve continuare sulla traccia del passato con le sfide che oggi abbiamo davanti e soprattutto con le giovani generazioni. Noi ci rendiamo conto che i giovani hanno questa sete di conoscenza, di coesione, di integrazione. Quindi è sui giovani soprattutto che vogliamo dare oggi una opportunità, lanciando anche qui da Venezia un percorso di ricerca che si completerà il prossimo anno e che riguarda appunto il ruolo dell'Europa in questa fase, dopo a cento anni dalla Prima Guerra Mondiale, come continuare la sfida della pace e renderla coerente, possibile, concreta anche per il futuro. Un processo di integrazione è possibile soltanto attraverso un lavoro di mediazione costante, continuo, di conoscenza, di approfondimenti, di rispetto reciproco che deve vederci tutti coinvolti e quindi torno a dire non un'utopia ma sicuramente un sogno che se ascoltiamo i nostri giovani per loro in parte è già realizzato. Gli attentati dei quali sono stati a volte purtroppo spettatori fisici non li ha spaventati anche di fronte a tante vite sacrificate, parliamo anche dei martiri di questa regione. Ci sono esperienze che ci inducono a pensare che i nostri giovani si sentono prima che italiani, prima che umbri per quello che mi riguarda, prima che veneti, si sentono europei. E questo è un messaggio importante al quale non dobbiamo mai rispondere negativamente. Lo dico soprattutto per la mia esperienza professionale, sono un'insegnante che ha vissuto e vive con i suoi ragazzi l'esperienza dell'Erasmus anche in questa forma di presidente dell'Assemblea Legislativa perché credo che sia un momento di crescita non soltanto per loro che vivono l'esperienza ma per la comunità che sta dietro a loro e che di riflesso e di rimbalzo in qualche maniera possono beneficiare di questo sentirsi cittadini europei in un mondo ormai globalizzato per cui l'Europa può svolgere questo ponte come lo è stata Venezia nel passato tra mondi diversi ma che possono e devono saper dialogare tra di loro. Il male c'è, lo scandalo c'è e ci sarà sempre. Non possiamo avere questa utopia che faremo della terra un paradiso terrestre. Questa è la conseguenza del peccato originale, è un dato di fatto, anche se uno non crede è un dato di fatto, però direi un'altra cosa che questa animosità, questo astio che si è creato a dire la verità negli ultimi trent'anni dopo il crodo dell'Unione Sovietica perché prima era questione politica, c'era un blocco di là, un blocco di qua, bene si sapeva che non erano in idilio, però comunque si conviveva, anzi c'era la teoria della coesistenza pacifica che adesso i giovani non sapranno neppure cosa sia. Io penso che bisognerebbe puntare ad una nuova mentalità e quindi anche, sarà un po' il tema del mio intervento, cioè ognuno deve fare anche un po' di autocritica, cioè se partiamo sempre che gli altri fanno... anche questo è molto importante per la reciprocità del dialogo. Però ho l'impressione che nel nostro occidente ci sia una presunzione di fare tutto sempre bene, nel modo più perfetto, più consono possibile. Penso che cambiando un po' questa mentalità e cercando di interloquire, anche perché tutto sommato l'Occidente è sempre in una posizione almeno un pochino di maggiore forza e chi è più forte deve tendere la mano. Poco tempo fa è stato sventato un grande atto di terrorismo a Venezia che volevano far saltare il ponte di Rialto e credo che questa sia una manifestazione di quanto importante sia la città di Venezia, ma non solo, ma il comportamento che abbiamo dato al mondo in caso della morte della studentessa Solesi credo abbia un significato ben preciso. Venezia è sempre stata la meta principale tra Oriente e Occidente e credo che questo sia una netta testimonianza anche i nostri predecessori. L'importanza di oggi è quello, portare avanti quello che i nostri antenati ci hanno insegnato e continuare verso l'integrazione e la pace che credo sia possibile in modo particolare nella città di Venezia.